Capitolo 28. Ken si apre la porta nei panni di un felino un po' troppo provocante. Per un istante rimane con la mano su un fianco. Una lunga coda che parte dal body leopardato superaderente. Le orecchie pelose che indossa si muovono mentre lei scuoti insieme testa e dito rivolta a Piper. No, no, solo cast e staff e tu hai detto forte e chiaro che non vuoi avere niente a che fare con noi e con me, dico, con più forza di quella che sento davvero. Ken si mi squadra. Che cos'ha in faccia? Prova a stare più dritta malgrado il crescente desiderio di rincorrere l'auto di core e tornare a casa, dove ragazze vestite da gattine sexy con artigli affilatissimi non possano prendermi. Il mio costume. Piper si intromette e lei viene da un piccolo musical di cui forse è sentito parlare. Il fantasma dell'opera. Ken si incrocia le braccia al petto. Mentre mi guarda a faticare per manovrare la sedia di Piper e farle salire il gradino della porta, punta all'insù il nasino nero da gatta disegnato. Sbuffando in modo evidente, si precipita lungo il corridoio ed entra nel soggiorno, andandosi a sedere in braccio all'enorme giocatore di football che ha spintonato Asad nell'ora di scienze naturali e che chiaramente viola la regola di Kenzie sull'accesso riservato alla gente del gruppo di teatro. È vestito da cagnolino, il che non ha proprio senso perché in Cats non ci sono cani. Asad ci saluta con un cenno della mano mentre dalla cucina si sposta nell'ingresso. Piper, sei stupenda, come sempre, dice. Eava, porca vacca, non ho dubbi, il miglior travestimento da fantasma dell'opera che abbia mai visto. Hamilton, suppongo, dico, indicando il suo soprabito azzurro, completo di bottoni in ottone lucenti ed una specie di sciarpa bianca increspata intorno al collo. Si è perfino disegnato baffi e pizzetto. Per servirla, risponde, alzando al cielo il suo bicchiere di limonata. Con la mano libera, Asad spinge la sedia a rotelle di Piper guidandoci in cucina, dove persone travestite e con diversi livelli di impegno se ne stanno in piedi con un bicchiere rosso in mano. Ragazzi nei pani di rivoluzionari francesi, ragazze con acconciature vaporose di hairspray, altri sei ragazzi vestiti esattamente come Asad, e qualcun altro mascherato da Evan Hansen, con la polo azzurra a righe e il braccio ingessato. È come se fosse esploso un camerino di Broadway. Il rosso scintillio di un paio di scarpe ai piedi di una Dorothy in minigonna mi ricorda che devo ancora rimettere nell'armadio quelle porta fortuna, prima che Kenzie trovi un altro motivo per odiarmi. Asad porge un bicchiere sia a me sia Piper, dicendoci di bere solo la bevanda leggermente alcolica bianca e non quella arancione, a meno che non vogliamo qualcosina in più. Direi di no, risponde Piper, indicando i raggi della sedia a rotelle, dato che sono già uno spot da servizio pubblico sui dischi del consumo di alcol tra i minorenni. Asad balla insieme ad alcuni ragazzi dello staff, assolutamente privi di ritmo quanto lui, mentre io e Piper rimaniamo vicino alla parete a sorseggiare drink, cercando di sembrare totalmente assorbite dal nostro consumo di liquidi. Come stiamo andando? Siamo un normale teenager? Chiedo. Piper ride. Vediamo, appoggiate in modo maldestro ad una parete durante una festa, siamo sulla buona strada. Al centro della stanza, Asad fa un passo di danza che si può descrivere solo come un robot sottoposto ad un esorcismo. Non sembra notare le ragazze accanto a me che ridono di lui, oppure semplicemente non dà loro alcun peso. Si muove a scatti e si agita fino al gran finale, dove atterra sul pavimento sulle ginocchia le mani puntate al soffitto. Le allunga verso di me, scuoto la testa. Non penso proprio. Piper mi dà il suo bicchiere. Perché no? Dopotutto è una festa. Asad la porta al centro della stanza, dove lui continua le sue giravolte e Piper si lancia in un handgiv dalla sedia a rotelle. Poi Asad le fa fare un giro completo e lei strella come una bambina. Mi raggiunge Saj. Anche lei, vestita di elastane e aderente animalier con due orecchie da gatto. Ah va, è un costume spettacolare. Grazie, rispondo. Mi sono detta, perché non usare i miei talenti naturali? Hai il mio voto. Alza il bicchiere verso di me per festeggiarmi, ma lo abbassa subito quando accanto a noi arriva Piper. Gli occhi e il sorriso di Saj si spostano a terra. Ciao, Piper, dice. Come stai? Piper la interrompe, alzando la mano tra loro. Attenta, sei sotto la stretta sorveglianza di Kenzie. Fa un cenno verso l'altra stanza, da dove Kenzie ci guarda a polaiata sul suo cagnolino fidanzato. Saj scuote la testa. Non è così. Forse siete ancora in tempo per risolvere questa cosa. No, grazie, dice Piper. La vita è molto più bella fuori da quella specifica ombra. Dovresti provare. Rimarresti stupita da quanto poco ti importa di quello che pensa lei una volta che inizi a ragionare con la tua testa. Piper mi prende entrambe le mani e ci mettiamo a girare al centro della stanza, allontanandoci da Saj. Mi aggrappo forte a lei. So che se lasciassi la presa finirei di nuovo verso la parete. Allora lui è qui, chiede Piper. Chi? Non fare la timida con me, Avali, il ragazzo del teatro. Scuoto la testa. Non sono ancora pronta per dire a Piper che si tratta di Asad e nemmeno per ammetterlo ad alta voce. Non lo vedo. Quando la canzone finisce, Asad ci fa segno di andare in corridoio per dirci che io sono in testa alla classifica del miglior costume di un bel po' di voti. E indovino un po', il premio sono due biglietti per Wicked. Gli brillano gli occhi per l'emozione. Come sai, Wicked è stato uno dei musical che mi hanno influenzato di più nella mia giovane vita. Chi parla così? Chiede Piper. Seriamente? Sei nato che avevi già 50 anni o è una cosa che è messo a nel tempo. Asad ride. La vita è piena di misteri, Piper. Per esempio, com'è possibile che una persona così bella possa essere tanto crudele? Un gruppo di leoneste del re leone ci passa accanto in corridoio. Asad sussurra. Ok, non ti ho detto niente. Fingi di essere sorpresa. Dal soggiorno arriva il suono di un gong che innesca una migrazione. Io seguo l'onda. Mi dico di ignorare l'emozione che mi sta sgorgando nel petto. È solo uno stupido concorso. Sulla mensola del caminetto, Ken si tiene una ciotola di vetro piena di pezzi di carta e due biglietti per Wicked. Asad mi fa il pollice in su. Ok, gente. Come tutti sapete, nel concorso dei costumi i giudici sono i vostri colleghi. Scuote la ciotola. Abbiamo conteggiato tutti questi voti e il vincitore è... Ken si dà di gomito al suo cagnolino, che si tira su di scatto e fa un rullo di tamburi sul tavolino. Rilly Jones. Nella stanza scoppia un applauso ed una ragazza con un costume da tucano dai colori vivaci si alza e agita le piume della coda. Asad solleva le mani incredulo. Io sprofondo contro la parete. Non importa, mi dico. Mi volto per dire la stessa cosa a Piper, ma lei è già in mezzo alla folla. Spinge le ruote in direzione di Kenzie. Vorrei gridarle di lasciar perdere, ma le sue guance paunazze mi dicono che ormai è fatta. Bugiarda, grida. Scusami? risponde Kenzie in tono fintamente misurato, aggiustandosi le orecchie da gattina. L'ultima volta che ho controllato tu hai riuscita dal club di teatro. Kenzie, non prendimi in giro. Io so che ha vinto Ava. E come fai a saperlo? Ce l'ha detto Asad. Kenzie gira la testa di scatto verso Asad, che pare si stia impegnando tanto quanto me per svanire nel cartongesso. Stringe gli occhi su di lui e poi torna a guardare Piper. Ava è stata squalificata. E perché? Kenzie giocherella con la sua lunga coda nera, facendosela scivolare tra le dita. Perché è un concorso di travestimenti e lei è già così nella realtà. Nella stanza si diffonde un leggero mormorio mentre tutti si girano a guardarmi. Io mi ritraggo il più possibile, mentre nella normalissima festa di stasera la normalità svanisce in fretta. Mi sposto lentamente dietro il tavolo delle bevande. Sento che potrei soffocare per l'aria pesante che si è creata all'improvviso. Davvero vuoi scaricare su di lei i problemi tra me e te? Sei egoista fino a questo punto? Piper è furiosa. Kenzie ha il viso paunazzo mentre lascia cadere la coda. Io sono egoista. Sei tu quella che sta usando per vendicarti di me perché secondo te ti ho rovinato la vita. Lo hai fatto? risponde Piper gridando. Kenzie la schernisce. Certo, è me la colpa di tutto. Come posso? Comodo dimenticarti sempre chi avrebbe dovuto guidare quella notte. Perché non guidavi tu? Ah già, eri troppo ubriaca, razza di codarda. Con una mossa fulmine a Piper strappa di mano a Kenzie la ciotola con i voti. L'altra a quel punto la strattona per riprendersela, facendola schizzare come se fosse seduta su una molla e cadere sul tappeto. La ciotola sfugge di mano a entrambe e va in frantumi contro il caminetto di pietra. Mentre Piper rimane immobile a terra, la scollatura posteriore del suo abito rivela per intero la fenice. Vorrei aiutarla ma sono diventata un tutt'uno con la parete. Asad invece è riuscito a riscuotersi e la raggiunge. Sto bene, grida lei, lasciami in pace. Lui la solleva comunque, rimettendola sulla sedia. Kenzie fa un passo verso di lei, ma Asad si frappone fra loro, spingendo via Kenzie per le spalle. Lei vati di torno, grida lei, nello stesso momento in cui il pugno del suo ragazzo colpisce Asad sul mento, facendolo bacillare all'indietro. Asad rimane in piedi al centro della stanza, si sfrega il viso, la confusione che ha negli occhi si trasforma rapidamente in rabbia. Così va alla carica del ragazzo, agitando i pugni. Giuro che il giocatore di football ride mentre un po' menacolpi, un po' spinge Asad via da sé, facendolo volare attraverso la stanza, dritto sul tavolino pieghevole con le bevande. Lo guardo pirouettare in quella direzione e nella mia, come se stessi guardando la scena di un film a ralentatore dove, a mano a mano che il momento dell'impatto si avvicina, tutte le teste si girano a bocca spalancata. Si sa soltanto che finirà male. Il corpo di Asad colpisce il tavolo, facendolo ribaltare insieme a quello che c'è sopra. Le bevande cadono, il liquido si rovescia e vola in aria in mille gocce come in un fermo immagine, verso di me.